In questa quattordicesima conferenza nazionale di statistica naturalmente un'attenzione particolare è dedicata al SISTAN, una rete molto numerosa di soggetti e molto diffusa sul territorio e quindi proprio una delle sessioni è dedicata al territorio, visto come chiave di lettura molto utile per comprendere i fenomeni economici, sociali e ambientali. Quindi questa sessione, questo webinar, si articola in quattro relazioni che forniscono una panoramica sintetica ma a 360 gradi sulle metodologie specifiche, sulle necessità di dati per interpretare il territorio, sulla costruzione di dati a livello geografico fine e sulla loro utilizzazione. La sessione si apre dunque con una relazione di natura metodologica seguita da un intervento sui tavoli territoriali che sono stati costituiti nell'ambito dell'accordo tra ISTAT, regioni e province autonome, UPI e ANCI proprio per discutere le esigenze del territorio. La nuova disponibilità di dati con un dettaglio territoriale e locale è poi l'argomento della terza relazione che si basa sui registri che l'ISTAT sta sviluppando. Infine, la quarta e ultima è dedicata all'utilizzo dei dati per le politiche di coesione territoriale, un argomento molto importante per il nostro Paese. Vi invito dunque a partecipare.